Musica Bene, eccoci insieme anche oggi è tornata a trovarci, anche se qualcuno difficilmente la potrebbe riconoscere in abiti borghesi, Anna Maria Nerosi, imprenditrice, che abbiamo conosciuto qualche tempo fa perché è componente dei Caenassi, questo singolare gruppo di rievocazione storica in bicicletta, di antichi mestieri in bicicletta. Perfetto, proprio così. Qua però viene oggi in altra veste, vorrebbe da dire con un sorriso quasi in veste di immobiliarista, vale a dire, in realtà è qua come cittadina perché ha acquistato due case nel comune di Erto e Casso, noto, ahimè, per il Vajont, in pratica, cioè devo dire un comune che ha peraltro un grande testimonial in Mauro Corona e insomma avendo fatto questo investimento, che peraltro diciamo come c'è da dire andrà a reddito fra un paio di anni, quindi insomma la sua presenza qua è assolutamente partita dal cuore. Per passione. Per passione. Ha detto, diamine, dobbiamo in qualche maniera parlare di quel territorio perché ancora troppo collegato al Vajont ma ha bisogno di essere rilanciato dal punto di vista turistico, infatti credo che si abitino pochissime persone. Sono in tutto 382 abitanti, per cui sono pochi rispetto soprattutto a prima del disastro che erano quasi 2000. Ecco, quindi se non si interviene per impopolarlo… Assolutamente, come quasi tutte le comunità montane ovviamente, perché le difficoltà economiche sono tante, però non essendo una zona turistica particolarmente conosciuta, ovvio che qualsiasi attività a scopo turistico ne soffre rispetto a altre zone come può essere il Trentino o le Dolomiti Venete. Ecco, e a testimoniare il motivo della sua presenza tra il fatto che una delle due abitazioni che lei ha comperato era praticamente chiusa da 50 erotti anni. Dal 1961, l'ultimo calendario trovato era il 1961. E non nessuno era più entrato? No, c'erano tutti gli oggetti della storia, di vita comune, cioè vita quotidiana, come se uno fosse uscito dalla porta e non rientrato più. Per cui gli occhiali, il rasoio, il pennello da barba, proprio gli oggetti di vita comune. Era un contadino, ma cisellatore del legno, come era tipico della zona, lui cisellava bastoni da passeggio con animali, con teste di animali, e poi venivano portati nei cari e rivenduti nella pianura. Lì anche è una zona in cui facevano, soprattutto erano cucchiai di legno, mestoli e quant'altro, che le donne poi andavano in pianura, arrivavano fino a Rovigo oppure a Milano stesso per vendere questi prodotti. E quindi nel vostro progetto comunque una stanza di questo edificio, voi avete intenzione di mantenerla aperta al pubblico e di conservarne l'integrità? Assolutamente sì. La stanza più importante della casa è quella col focolaio, come tutte le case. Il focolario domestico dove si viveva lì, anche perché era l'unica fonte di calore che c'era su tutta la casa. Dunque lì è il cuore dove pulsa, c'erano tutti gli oggetti concentrati e verranno riposti, nello stesso modo in cui si trovavano, e poi aperta al pubblico per due ore al giorno nel fine settimana per poterla rivivere e vedere di cosa si viveva in un passato non così tanto lontano. Al di là della sua passione, uno ci ascolta e dice che il posto è bello perché oggettivamente il Vaionte, in particolare Alto e Casso, stanno in una bella zona, forse un po' brulla rispetto ad altre zone vicine più verdi, però insomma hanno una loro valenza turistica, ma era per arrivare a dire che uno vuole farlo, ma ci sono case, è un paese più o meno abbandonato. No, non è proprio così, forse sembra quando si passeggia nel borgo, questa è la sensazione, però in realtà molti edifici sono stati recuperati, proprio anche come albergo diffuso, altri proprietari hanno avuto degli incentivi e poi fanno l'affittacamere, per cui posti per soggiornare ce ne sono, con dei prezzi anche molto abbordabili. I paesaggi che ci sono attorno, le vette che ci sono, sono molto importanti, perché arriviamo fino ai 2600 metri, 2002-2006. Erto deriva proprio dal fatto che comunque è un territorio ripido, Erto, e il dislivello dal paese che è circa 800 metri fino alle vette è piuttosto significativo. C'è il parco delle Dolomiti Friulane, per cui natura selvaggia, sentieri ce ne sono, rifugi da visitare, da fare anche anelli, ce ne sono parecchi, merita proprio di visitarmi e viverla. È una montagna diversa da quella che normalmente vediamo, ma non meno bella di altre, come può essere il Trentino piuttosto che altre zone. Poi questo è un momento in cui, devo dire, anche a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda le zone terremotate, si sta spingendo molto sul turismo, considerando una leva importante di ripresa economica. Lo stesso vale evidentemente anche per la zona di Erto e Casso, perché il turismo potrebbe essere una leva per rianimare un territorio che vive ancora del triste ricordo del passato. Assolutamente di quello. E poi gli abitanti sono comunque costretti a spostarsi nelle zone industriali, come Longarone, che comunque dista 10 minuti, poi vicine, in brevissimo, si arrivano comunque sulla Val Zoldana, oppure anche a Cortina. Dunque non è limitato a lì, ma si può comunque muoversi tranquillamente e visitare tantissime zone. Poi si può muoversi anche verso i Friuli, non solo verso il Veneto. Assolutamente, anche perché c'è la Val Cimogliana a pochi passi a 10 minuti ed è magnifica, con il campanile della Val Montaniana, che è tra le più famose del Friuli stesso. Ce ne sono veramente tantissime, tantissime da poter fare e spettacolari, con una fauna e una flora fantastica. Ecco, ma il fatto che lei sia qua e abbia sentito questa necessità di dire guardate che c'è anche questo aspetto del Friuli vicino al Veneto, insomma non può essere quel territorio abbandonato e continuare a vivere solo dei ricordi. Ecco, questo suo afflato evidentemente testimone anche che qualcosa non è stato fatto. Beh, sicuramente in questo momento c'è poca promozione turistica, veramente molto poca. poca conoscenza del territorio e anche diffusione di quello che la natura può offrire. Purtroppo non viene così considerata, poi forse anche le varie entità che sono comunque tutte piccole o separate non si sono unite a tal punto da poter promuoverlo in maniera significativa. e questo porta un po' di disgregazione tra le parti e la mancata diffusione del messaggio. E lei come mai ha scelto di investire lì? Beh, un po' principalmente per passione e amore. Un po' perché comunque volevo dare il mio contributo ad un paese comunque in sofferenza, sofferenza come il numero di popolazione, un sofferenza non in altri sensi, per l'amore del cielo, non voglio che venga frainteso il messaggio, di dare il mio contributo pur piccolo in un'opportunità di poter far conoscere e dare una spinta a quella che può essere un'attività turistica e di conseguenza il lavoro per i giovani che dovrebbero vivere lì. Ce ne sono giovani o immigrati? Ce ne sono, però ovviamente si spostano per gli studi, ma poi ritornano, l'attaccamento al proprio paese è forte. E se uno volesse venire là, qual è lo stimolo che lei suggerisce? Venite a Erto e Casso perché? Beh, al di là della storia che in un paio di giorni uno la può visitare, la può vivere perché ci sono dei musei e comunque c'è la diga da visitare e quant'altro, comunque ci sono questi percorsi da poter fare, c'è una palestra di roccia bellissima per attività sportive varie, ci sono dei bei giri da poter fare in mountain bike, cioè la possibilità di fare varie attività di sport come arrampicata, d'inverno non c'è lo sci, è vero, però ci sono le arrampicate sul ghiaccio, sulle cascate sul ghiaccio, ci c'è la possibilità comunque di fare del trekking e vivere la montagna in pieno silenzio e in cui il sentiero è sentiero, non è un'autostrada di persone. Il saldo della popolazione annualmente è un meno, cioè sono più le persone che ci salutano di quelle che nascono? Sì, qualcosina, però ultimamente diciamo un po' a pareggio. Beh, su 385 abitanti... Si fa anche fatica. Ovviamente c'è stata qualche nascita, però ahimè purtroppo c'è anche qualche perdita e per cui un po' si bilanciano. Ecco, ma su quei 385 abitanti la gran parte sono autoctoni? Cioè gente che è cresciuta e è tornata lì dopo il disastro? Sì, sicuramente quasi tutti, alcuni sono proprio persone che sono resistite lì, non sono neanche mai evacuate o comunque tornate nel breve, proprio per l'attaccamento e hanno combattuto per mantenere la loro posizione. Che parte del paese fu distrutto, se ricordo bene. Assolutamente, poi evacuati, ma alcuni senza corrente, senza acqua, senza niente, sono rimasti lì a combattere per la loro terra e rimanere nel loro paese. Hanno costruito una parte nuova, a 200 metri di dislivello un po' più su, da rispetto al borgo vecchio, proprio per evitare il problema di un eventuale allagamento perché non riuscivano a gestire più il flusso dell'acqua dei fiumi. Ma adesso, insomma, è tutto a posto perché... Mi pare che invece Mauro Corona continua a vivere nel borgo vecchio, mi pare veramente... No, è nella parte nuova, al laboratorio e vive anche lì. E lei che consiglio darebbe agli amministratori? Perché c'è un comune, ci sono degli amministratori. Assolutamente. Poi posso ridere per pensare a una campagna elettorale in un paese di 385 abitanti. Si divide in due famiglie, normalmente. Io direi, prendetevi più cura del vostro paese perché è bellissimo. Fate di tutto perché si ripopoli, perché merita di continuare a vivere. Grazie, con questo appello salutiamo Anna Maria Nerosi e le auguriamo buon lavoro e buona fortuna in questa sua scommessa. insomma, fra l'altro farete anche una festa, non avete riportato le case al grezzo, ma la sta vivendo proprio con passione e con intensità. Sì, infatti, il 18 giugno faremo una festa proprio perché abbiamo terminato questa casa al grezzo che per la località è grande, perché sono circa 450 metri quadrati. Ma ci picchia? E per la località è piuttosto grande perché normalmente... Però anche in città, eh, 400 metri quadrati. Non solo per erto e caso. No, ma lì le case normalmente sono 20 metri quadrati a piano distribuite in quattro piani, no? Per cui erano molto strette e alte, verticali. E queste erano due, le abbiamo unite e è uscita questa metratura piuttosto importante, insomma, per un borgo. Magari se fosse una struttura alberghiera altrove, se davvero niente. Buon lavoro. Grazie mille. E allora ricordiamoci per l'estate, insomma, una possibilità di gita a Erto e Casso, Bayonc, ma insomma, non solamente vivere del ricordo, ma guardare al futuro. Grazie, alla prossima. Buona serata. Grazie a tutti.